Anche io sabato 17 sarò a Belluno per difendere i beni comuni. Sabato 17 sarò a Belluno per i torrenti della mia valle, per il Lutorto, il Marezon e il Grisol minacciati dallo sfruttamento idroelettrico. Allora io sabato 17 sarò a Belluno per difendere la madre terra e come giustamente diceva i nativi d'America che quando i fiumi non avranno più acqua bagneremo stai. Ciao, io sabato sarò a Belluno per difendere i beni comuni. Siete tutti invitati a questa bella manifestazione. Stop allo sfruttamento dei fiumi, io al 17 mi manifesto. Sabato 17 dicembre, ricordati che questo è un bene comune. Sabato 17 dicembre, Bellunese, alzati e cammina. 17 dicembre, non faremo silenzio. Sabato 17 dicembre, uniti per i beni comuni. Comunque uno esterno dà il via però, il file 2 e 1. Sabato 17 dicembre, uniti per i beni comuni. Sabato 17 dicembre, mani, festa, azione. Anche se sono timido, sabato 17 dicembre ci sarò. Che giorno era? Sabato 17 dicembre! Tutti uniti in centro per i beni comuni. Sabato 17 dicembre, io manifesto per dire no alla camolino Busca. Nonostante tutto, permettiamo che questa non è una minaccia di morte a Roccone e al direttivo di BGSP. Sì, però la gestione di BGSP è una merda! Grazie! 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 Grazie!